E continuiamo a parlare di eccellenza, il nostro live quotidiano è dedicato al team Ortanova. Noi ci facciamo ospitare proprio dal tecnico della formazione ortese, Cristian Carbone, che è in diretta in collegamento video con Telesveva Sport. Ciao mister, ben ritrovato, grazie per la disponibilità. Ben ritrovati a voi. Allora mister, in apertura ti chiedo di tracciare un bilancio sulla preparazione in vista della prossima stagione in eccellenza e soprattutto ti chiedo, dobbiamo attenderci ancora novità di mercato per completare l'organico? Noi stiamo serenamente facendo il cammino che c'eravamo prefissati. Abbiamo pensato ad una squadra giovane, funzionale. Dobbiamo rispettare certi parametri, certe prerogative, quindi siamo stati attenti ad essere giusti in tutto quello che abbiamo fatto. Adesso il campo ci sta dando le prime sensazioni, che sono comunque sia buone, nonostante abbiamo fatto qualche uscita con un risultato non soddisfacente, però sapevamo che ci attendeva un percorso dove dovevamo armarci di pazienza, lavoro e credere in quell'identità che vogliamo raggiungere. A Molfetta si è visto già qualcosa di interessante. Cristian Carbone è stato chiamato al timone del team Marta Nuova nella passata stagione, ha campionato già in corso, in una situazione estremamente complicata di classifica. Con il suo arrivo però la squadra ha decisamente cambiato marcia di fatto, risalendo in classifica, guadagnando posizioni, è arrivata la salvezza, anche se poi il campionato è stato sospesso per i motivi che tutti voi conoscete. È più complicato confermarsi? Perché nella prossima non sarete più una matricola, l'obiettivo resta la salvezza, mister? Beh, chiaramente la cosa più difficile è quasi sempre non attestarsi ma confermarsi, però è una sfida molto molto bella, siamo tutti quanti molto motivati e abbiamo l'entusiasmo giusto, ma anche credo l'organizzazione per poter fronteggiare a questo genere di impegno. perché sapevamo che è un qualcosa di... sulla carta proibitivo, però abbiamo... ci stiamo preparando e ho delle buone sensazioni. Ti piace il format a due gironi, mister? Ci sarà questa, insomma, che sarà la grande novità della prossima eccellenza? Diciamo che io sono chiamato ad allenare e mi limito a quello perché sono anche un privilegiato se a 29 anni posso già guidare un gruppo che si trova in eccellenza, quindi io sono chiamato ad allenare. Diciamo che, mettiamola così, sono contento di aver fatto il mio esordine eccellenza quando era ancora l'eccellenza dello scorso anno. Poi, felice di far parte anche di questo nuovo format, speriamo che possa stupire perché le sensazioni all'inizio di tutti quanti non sono chiaramente idilliache. Messaggio alla fine chiarissimo, mister. Bello vedere tanti allenatori giovani quest'anno in eccellenza. Ci sarai tu, non ancora trentenne, discorso che vale anche per Luca Rumma, neotecnico dell'Unione Calcio Biceglie. Ci racconti di Pietro Tussiano, mister, che lo hai avuto l'anno scorso, Timor Tanova, durante l'estate ha firmato con la Fidelisandria. Secondo te può fare bene anche in Serie D? Pietro per caratteristiche può fare quello che vuole. Per caratteristiche lui ha delle potenzialità che sono veramente difficili da trovare. Abbina una qualità, una forza esplosiva che sono delle volte incontenibili. Lui deve essere molto bravo a gestirsi a partire dai rapporti, perché è un ragazzo molto buono, ma ha un carattere estroverso e in certi casi deve stare attento a certi passaggi. Però gli auguro il meglio e sono il suo primo tifoso. Mister, grazie per la disponibilità. Avremo modo di aggiornarci durante la lunga stagione calcistica. Grazie a Cristian Carbone, allenatore del Timor Tanova. Grazie a voi, un abbraccio. Ciao, mister, a presto.